ciao readers come state spero tutto bene siete andati a vedere il nuovo film di batman io sì e mi è piaciuto tantissimo quindi stimolata da questo film mi sono detta perché non fare una classifica anche sul cavaliero scuro in effetti è il mio supereroe preferito non sembra ma ci sono cresciuta da piccola guardavo i cartoni animati che davano su italia 1 poi fumetti altri film eccetera eccetera quindi oggi vediamo i cinque fiumetti più belli di batman secondo me bisogna leggere questi fumetti per vedere il film nuovo assolutamente no però se li leggete secondo me potreste capire magari qualche citazione qualcosina in più il film è veramente tanto tanto bello e niente se l'avete visto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti io ne parlerei per ore ma no perché se no faccio troppi spoiler quindi buona visione mi raccomando iscrivetevi al canale e fatemi sapere cosa ne pensate di questi cinque fumetti numero 5 amore folle meglio conosciuto come mad love di paul dini e bruce team iniziamo con qualcosina di diciamo leggero questo volume di batman è molto molto stile cartoon come potete vedere dalle immagini tuttavia nonostante lo stile cartoon affronta un tema molto importante ovvero quello dell'amore tossico in pratica è la storia vera di come la dottoressa arlene francis quinzel diventa arley queen una storia che sembra appunto tragicomica a volte ci fa sorridere a volte ci fa riflettere soprattutto se ci mettiamo nei panni della ex dottoressa l'amore che lei prova per joker è appunto qualcosa di altamente tossico joker in effetti non è interessato all'amore di arlene tuttavia lei ne è completamente ossessionata e farà di tutto per compiacerlo addirittura arriverà ad un punto in cui convolgerà anche batman e no non ve lo dico numero 4 ash di jeff loeb e jim lee qui abbiamo un stravolgimento dello stile infatti non abbiamo più un cartoon ma un cavalliero scuro molto più realistico e molto più oscuro degno appunto del mondo di batman ash arriva a gotham city e immediatamente tutta la città inizia a tremare costringendo i più grottesti criminali a fare il suo volere tutti tranne catwoman che si addentra nella vita di batman più di quanto avrebbe mai saputo immaginare in questo volume vecchie relazioni vengono rimesse in discussione e nuove alleanze vengono formate tuttavia batman resta il bersaglio numero 1 di ash un ash che in realtà è numero 3 il matrimonio di king jenny man wicks and jones ok diciamo subito che sì il titolo potrà rende inganno ma tutti conosciamo l'allegria che dipinge il nostro cavalliero scuro il matrimonio è uno di quei fumetti che magari possono sembrare da ragazza ma in realtà non lo sono anche qui nonostante il tema obiettivamente allegro abbiamo le atmosfere oscure e una storia che sono sicura vi resterà dentro perché vi ripeto è tutto forché un matrimonio allegro quello tra batman e catwoman anche qui c'è una scena che mi è particolarmente piaciuta e non vi dirò come e perché numero 2 il lungo halloween sempre di joseph lobe ma questa volta c'è team sale lo devo confessare il lungo halloween è probabilmente uno dei miei preferiti di batman ogni anno quando posso me lo rileggo e ogni anno mi lascia quella meravigliosa sensazione di aver letto qualcosa di nuovo nonostante tutto anche qui atmosfere coupe tipiche del cavalliero scuro un ora in costume che non può credere più in nessuno in quanto un serial killer usa i giorni di festa per caratterizzare chiamiamolo suo lavoro no non è calendar man anche lui un famoso criminale di batman tuttavia vi ripeto questo è un volume che coinvolge ogni ogni criminale più famoso e alla fine scopriremo l'identità dell'assassino del lungo halloween un'identità che sono sicura vi lascerà a bocca aperta esattamente come fa con me puntualmente ogni anno e alla numero 1 the killing joke scritto da ala moore che se amate il mondo dei fumetti sono sicura conoscete più che bene e brian voland questo a mio parere è uno dei capolavori dell'universo di batman un qualcosa che chiunque dovrebbe leggere nonostante il contenuto sia molto forte per certi aspetti violento e crudo è la storia del joker del vero joker non il joker che deve essere bello per far sognare le ragazzine ma il joker che deve far paura un uomo dalla vita apparentemente normale che viene sconvolta a un certo punto da un evento che non vi sto a raccontare ovviamente un joker che incredibilmente ci fa riflettere che ci insegna tante cose e che ci racconta una barzelletta finale che lascia veramente spiazzati molto più spiazzati rispetto al finale del lungo halloween secondo me the killing joke è uno di quei fumetti assolutamente da leggere ripeto perché mi ha fatto riflettere molto perché il joker fa paura perché una giornata storta ti può cambiare veramente l'esistenza e da brava persona può farti trasformare in un vero criminale e questi erano i cinque fumetti di batman che secondo me devono essere letti non sono andata nello specifico perché penso che questo video sono sarebbe durato ore e non mi sembra il caso quindi fatemi sapere cosa ne pensate se avete letto uno o più di questi fumetti se vi ispirano se volete dei dettagli un pochettino più specifici e niente spero che questo video vi sia piaciuto io vi invito a guardare sia questo il prossimo che tutti gli altri che ho pubblicato e alla prossima